Chiara Valle, Casa della Salute, Cantiera Rilento e il Sindaco vede il Commissario Asp. Disponibili a incontrare il Sindaco Domenico Donato per quanto riguarda l'andamento nel cantiere dove sono in corso i lavori di realizzazione della nuova struttura destinata alla Casa della Salute. Il messaggio nella sede municipale di Via Castello è arrivato direttamente dal Commissario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Antonio Battistini, che ha recepito le istanze degli amministratori preoccupati dai lavori a Rilento che si stanno eseguendo nell'area parcheggi dell'ex sezione di staccata del Tribunale di Via Mario Ceravolo. L'incontro è stato già fissato per lunedì prossimo nella sede catanzarese dove i vertici della sanità provinciale, assieme ai responsabili dell'ufficio tecnico, renderanno il conto al Sindaco sullo stato di avanzamento dei lavori. Cantiera aperta dall'autunno del 2022 con tanto di anticipazione contrattuale pagata all'impresa esecutrice dei lavori, ma su quanto si è fatto sino ad oggi l'amministrazione non è affatto soddisfatta. Da qui la richiesta dell'incontro con il Commissario per fare il punto dello stato dell'arte con l'obiettivo prefissato già della vicilia di poter imprimere una decisa accelerazione sull'esecuzione dei lavori. Sino ad oggi solo sbancamento del piazzale è la reazione delle condotte. Nell'altro a distanza di un anno è pasta di cantiere avviato. Ovviamente non c'è solo la parte esterna alla Casa della Salute che interessa l'esecutivo in carica, ma sul tavolo verranno portati quelli che sono i problemi di sempre che si porta in dote l'ex ospedale San Biagio. Distringente attualità, la cancellazione che riguardano le prestazioni MOC si tratta degli esami di densitometria ossea, Un esame radiologico che permette di determinare la densità minerale dell'osso e può essere eseguito a livello del femore, della colonna vertebrale, lombare oppure su tutto il corpo. Esame di mineralometria ossea computerizzata scomparso dalla mappa delle prestazioni, nonostante la Casa della Salute possiede la strumentazione idonea per effettuare le prestazioni ad alti livelli. I residenti dell'area delle preserre per effettuare l'esame devono rivolgersi al centro unico di prenotazione che assegna all'ospedale civile di Catanzaro l'esame. Eppure, sino a qualche mese addietro la Casa della Salute sfornava tutto spiano le prestazioni anche per pazienti di altre province. Poi c'è tutto il ragionamento che ruota attorno alla presenza dei medici assegnati in scadenza di contratto oppure negli anni sono andati in pensione e mai sostituiti. È chiaro che il sindaco Domenico Donato dovrà trovare lo spazio necessario per mettere sul tavolo della discussione tutte le problematiche che attanagliano la struttura sociosanitaria. Il punto di convergenza degli amministratori è che non si può chiudere per consunzione e su questo argomento c'è da capire che hanno in mente il commissario generale Antonio Battistini e il direttore sanitario Antonio Galluccio. Era una delle sfide più difficili e impegnative del mio mandato a tagliato corto Donato. Adesso è una grande conquista, per questo dobbiamo evitare ulteriori ritardi.